Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785 dal conte Pietro Manzoni e da Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria. Da giovane, da bambino, compie i suoi studi in istituti religiosi e qui riceve un'educazione classica, tradizionale, rigida e crea questa educazione in lui un'avversione nei confronti degli ambienti clericali. Una volta però fuori dal collegio, inizia a frequentare prima l'ambiente intellettuale milanese, a cui alterna anche momenti di svago, e poi si reca a Parigi dalla mamma e qui frequenta un gruppo di intellettuali legati al pensiero illuministico del Settecento e questi anni sicuramente sono importantissimi per la sua crescita dal punto di vista politico, morale e culturale. Si sposa poi nel 1808 con una donna di religione calvinista, protestante quindi, Enrichetta Blondel. Questa donna poi si convertirà al cattolicesimo e spingerà poi lo stesso Manzoni a riconvertirsi, ritornare cattolico e non solo, direi anche un pochino più che ritornare cattolico, riaccenderà in lui quella fiamma della fede che poi caratterizzerà anche le sue le sue opere, una su tutti i promessi sposi. A Milano conduce una vita riservata, ma nonostante tutto e nonostante anche la sua condizione sociale, segue con grande fervore e appoggia con grande fervore il risorgimento italiano ed è un grandissimo sostenitore dell'Italia unita. Chiaramente l'appoggia a modo suo, come intellettuale. Non dobbiamo immaginarci a Manzoni come un personaggio che scende direttamente in campo in prima persona con le armi, ad esempio, ma dobbiamo immaginarci un Manzoni che appoggia, ad esempio in marzo 1821 è molto chiaro, tutti i movimenti risorgimentali. Nonostante la sua vita riservata, Manzoni è una figura pubblica, è una figura riconosciuta pubblicamente per la sua opera, intanto il suo romanzo principale, i Promessi sposi e poi per la sua opera di intellettuale, il suo lavoro costante. Manzoni addirittura quando nel 1861 nasce il Regno d'Italia viene nominato senatore e viene messo anche a capo poi della commissione sulla lingua. Manzoni è decisivo nella scelta dell'italiano e nella scelta di quale potesse essere la lingua giusta da parlare nel nuovo Regno d'Italia. Morirà a Milano dopo una vita anche privata, costellata da molti lutti per via di alcuni familiari e alcuni figli che sono morti. Morirà a Milano nel 1873 e morirà da appunto personaggio pubblico di grande importanza per tutta la nazione. Dal punto di vista delle opere Manzoni compone gli inni sacri che sono delle composizioni poetiche religiose. I titoli sono molto chiari e danno l'idea dell'argomento trattato, sono la resurrezione, il nome di Maria, il Natale, la passione, la Pentecoste. Ci sono poi delle odi civili invece che non riguardano la religione ma riguardano argomenti di attualità. Il 5 maggio, scritto qualche mese dopo la morte di Napoleone, ma appena Manzoni aveva saputo la notizia, si è messo a scrivere questo, però la notizia era arrivata dopo qualche mese perché dalla morte di Napoleone nell'isola di Sant'Ele, nel centro dell'Oceano Atlantico, prima che la notizia arrivasse a Milano, passo del tempo. E poi marzo 1821 che riprende diciamo l'argomento sociale legato appunto a dei moti scoppiati in Piemonte e in Lombardia. Ci sono poi delle tragedie di argomento storico come il conte di Carmagnola e la Delchi e poi la sua grande opera, grande romanzo, la cui prima edizione è detta appunto ventisettana del 1827, I Promessi Sposi. È un romanzo storico, quindi un romanzo in cui lo sfondo reale, realmente accaduto, storico, è accompagnato da protagonisti di una vicenda inventata, no? Renzo e Lucia sono due personaggi inventati, ed è ambientato nella Lombardia del Seicento, quindi due secoli prima rispetto all'epoca in cui è vissuto Manzoni. E poi scrive nel 1840, storia della colonna infame, che è un processo agli untori che potrebbe essere un appendice dei Promessi Sposi, non si lega in un certo senso alla peste, argomento affrontato anche nel romanzo principale, e poi appunto è proprio un processo alle persone che venivano accusate di diffondere la peste. Dal punto di vista del pensiero dobbiamo immaginarci Manzoni come il rappresentante del romanticismo italiano, quindi il romanticismo in Italia se ha una delle persone, un rappresentante principale può essere sicuramente Manzoni, e al centro della sua opera, e qui c'è la parte religiosa che viene fuori, è la divina provvidenza, quindi quella che potremmo immaginarci come una mano di Dio, no? Che mette tutto a posto, che fa sì che i buoni riescano comunque alla fine ad essere accontentati, che fa sì che il progetto di Dio possa essere realizzato. Nell'idea di Manzoni c'è un grande progetto divino, ma l'uomo non è sufficientemente intelligente per capirlo, non è all'altezza per comprenderne i fini, deve semplicemente fidarsi di Dio perché tutto ciò che fa Dio lo fa per il bene degli uomini, e quindi anche quando apparentemente le cose sembrano non andare per il meglio, in realtà c'è un progetto più grande che l'uomo non può comprendere. Questa è un po' l'idea manzoniana della religione. Infine poi ha un'idea sull'arte che deve essere, secondo Manzoni, utile alla società, cioè deve servire a qualcosa, deve essere vera, cioè ispirata al vero, non deve essere inventata, deve essere legata alla realtà. E infine deve essere ricca di valori morali, deve in un certo senso tracciare la strada per le persone. E quindi proprio per questo motivo Manzoni ritiene che nel suo romanzo, nei Promessi Sposi, si debba usare una lingua il più vicino possibile all'uso parlato, che sia semplice e comprensibile a tutti, in modo che il testo dei Promessi Sposi possa essere davvero utile perché è letto da tutti, accessibile a tutti e possa trasmettere tutti i valori contenuti nel romanzo al grande pubblico della nuova razione che, quando Manzoni ha scritto la prima stesura del romanzo, era sognata nel pensiero risorgimentale, ma da lì a qualche anno poi diventò uno stato vero e proprio.